Dai palcoscenici più famosi del mondo a Fubine Monferrato, in provincia di Alessandria. La danza attraversa la Porta del Monferrato per la prima edizione di Danzarte, che riceve il testimone dal famoso premio Danza Renzano, con alle spalle 25 anni di storia. Due eventi di enorme rilievo, organizzati dalla collaborazione tra il comune di Fubine e Patrizia Campassi, direttrice dei due premi e fiera delle sue origini alessandrine. Ho pensato come prima coppia che apre il Monferrato Danzarte a Nicoletta Manni, etuale del Teatro alla Scala, insieme a Tim Maffaei Andriascenco, primo ballerino di questo grande teatro, prestigioso teatro. E poi un evento che invece si svolgerà a luglio con le Manora, il 13 luglio, dove su un palcoscenico meraviglioso messo a disposizione dai signori Shawn, noi vedremo grandi eccellenze della danza internazionale, a partire proprio dai principali, i primi ballerini del Royal Ballet.